Il prossimo invitativo del studio è il signor Helmin Wills, membro del Parlamento di Cochou, Paolo Pueblo Soberano. Helmin, un felice piano, Paolo. Felice piano, Paolo. Angélica e anche le opere, anche lui. Non sta qui. Naturalmente, può oire, anche i televidenti. Non sta qui, perché non si può intercambiare informazioni, ma non si può debattere qualche tópico, ma non si può preparare tutto. Grazie a tutti. Il prossimo invitativo del mercato hollandese-europeo. Il prossimo invitativo del mercato hollandese-europeo. Il prossimo invitativo del mercato hollandese-europeo. politico non l'andese, ma tutto il locale di società qui va. Contrario nel locale non stacchere con la cosa che passa, con la banda riba, la banda buona, la banda buona. In Holanda, la nostra linea è finanziata. Non cosa passa da Rotterdam, o meno di Groningen non sa. Poi, c'è una banda di e due o tre medie di comunicazione che sta a livello nazionale, ma è violente di comunicazione i cor mondiali sta il locale, non sta. Non sta. Non si vediamo, anche nella nostra l�rannia è Fans correnta che c'è Non, e ma, cosa e così, dissi adesso non vuoi alcuniab PD cosa di non area andò non sa lì fico solo non sa compagnia cosa è che cosa che passa qui bo l'hollandese non sa no è spaz non è io di corso non c'è bambino là non sa mai cosa di corso la persona non è totalmente alienato di quello che passa d'anque gius io ultimo segura anche qui per te mirare che d'anque gius per internet d'anque gius per la Hulanda per mettere 30 megabit standard per 16 euro per luna Hopi io di corso ti ho internet in casa uno per motivo di non io non che ti ho scopo come stai di internet per 2 botanze che è adulto non è adulto maio non non sei ma non pensionato ti ho scopo non rado non la corso ti ho scopo 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 e poi miro che ti ho scopo e Facebook io da Hopi ti ho scopo con Hopi gruppo di una di corso che per motivo di Facebook ti ho scopo connexione Hopi seca e il qualche mese non stai seguendo il programma qui non ti ho scopo ti ho scopo di internet correcto non ti ho scopo ti ho scopo che il Facebook sta corriendo vai bene un ti ho scopo di meno di 5 minuti va di venire con mille di euro ti ho scopo in Holanda come and ti ho scopo ti ho scopo ti ho scopo ti ho scopo per la nostra per la nostra per la nostra è hollandese che ho scopo dipende di prensa hollandese non ti ho scopo non mi ho scopo visita Kosovo mi hai scopo e ho scopo tali 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 però non ho vini visita Kosovo per la nostra toma e autorità di papi di Kosovo di papi di politico non di Kosovo di papi di e la bimba partecipare con il teore e la bimba partecipare con le persone vecchie e non è necessario per dare un approvazione e bisogna andare a voler, perché se non si sente in una riunione vota a partecipare e bisogna andare a voler, vota a te e non si trattano a capire con l'allandese e non si trattano a voler, non si trattano a voler e non si trattano a voler non si trattano a acqu Euro, non si trattano a voler contesto interparlamentario non se trattano a 10 giorni largo, a inolanda non si ha pego un paribiaque olandese, con simplemente per esempio, non si ha comprimo nada, però non si ha insistito che il bordo è corrupto il poeta è corrupto, è politico è corrupto chi ha donato la informazione? Nossi mesi, non si ha donato la informazione durante il tempo, nossi mesi sta vai a Holanda con documento e va per il holandese per di otombanda, per esempio noi, almeno, sta brinca corruzione, dove investigare in vaina, investigare instituzioni non di governo, instituto non di governo e non sta tomando medida da direttore non caz sta con auditoria forense con auditoria operazionale non sta tomando medida che ho posto un esempio di qual medida non posso explica, non sta della lei non sta ponendo ma non si non è un mandatario non sono un sero mandatario non si non è un mandatario non è un mandatario non è un ministro non è un mandatario non è un mandatario non posso dire che ho effetti in ban, questa è una vera spraga, quindi se vuoi condenare a Wilders, goberna qui. Ma che cosa sta a passare? In Holanda, sta a permettere di questo, perché non c'è una tragedia di libertà di expresione, ma che ne abbiamo, quindi Wilders, sua expresione è stata catalogata come libertà di expresione, come una rete, se vuoi condenare più o meno, meno mesi, di meno gravità nel 2005. Come andiamo, non si vedi se è membro di PVV, Luca Sancontin, non si può dire corruzione di bici, non si può dire il livello di Reino, non si può dire che sono in Holanda, è la lingua, è di essenzione, non si può dire che sono di posto, non si può dire corruzione in Holanda. Ah, è ma, non si vedi se è Luca San, è giara son, è la bolla di insistire, non si vedi se è presidente di riunione, con il nostro incòmodo, con Luca Sancontin, perché è un amore, con un caccio di castigo, per violazione, per hostigazione sexual, è un delinquente, per permettere di essere membro di Parlamento Holandese, non può dire con questo, non è il governo, non è cazzo. che è il terribile, perché è un belqlore, non è un belqlore, non è un belqlore, perché è questo, ma è un belqlore di un paese, quindi, forse raccoglie, è un corrispondente, e si dice, non si può dire, che è il nostro incòmodo, quando ci sono di stagghi, di casa e di che sei la salita e poi fai e non vieno più. E un giorno non vieno e poi non vieno mai. Il resto del giorno vieno per la quinta e un'intera e non fai mai indi. Ma il altro membro non è un'intera che non è? Non è un'intera e un'olandese. E sa che ora ho tenuto ragione. Lo che ti passa è che noi abbiamo un'indrome di sempre di romano blanco di un corpo che è un'intera un corpo che non è acceptato Ora per le persone non sono stati perché c'è una pelle che non stanno Non stanno ovviamente non stanno che perché noi insegniamo come l'Olandese. Perché noi hanno un paradigma che l'olanda è molto buono. Ma che ci sono ancora buono. Lo si è rimasto poteva bene. Deve un poteva molto, come dicevano. perché non sono così, non sono così, non sono così, non sono così, anche quando il preto ha malato di votare, perché non è un gai blanco, è un gai. Ma che ti succederà? Nossi politici, inizia sempre, stiamo imponendo aspetti, per quanto tempo i democrati, Bairro Zondal, Ciro Cron, Wancho Evers, eccetera, stiamo imponendo aspetti di più olandesi. Olandesi non può essere conoscere qui, lo qual come mi avviene, ultimo, 16 anni, sono state di occupare, nunca nella mia vita, mi ha avuto tempo di, non mi ha avuto la defunto, Boy, Rosendale, Ciro, Cronco, Wancho, eccetera. Ta gente non c'era imponere l'aspetto, non postura professional, non per upsolding, non maniera di comunicar. E nonca, per esempio, un Wancho e Iverson, non riunico un Stato Secretario. Entra se è. Foi nel momento come il Ministro e il Presidente, a acceptare un Stato Secretario, riunico e tommo ordine, se che è, e ha va devaluare, va degradare, ma è un mese. E non tocco, è normale. Non c'è permita, quando è che passa, fa tempo per ieri, eis, ameli di un elaje, que i olandesi perdono l'aspetto. A bocci, bo tiinco sale, fa un extremo, vai in otro extremo, poi bollegger ne balanza. Sale, fa un extremo, caminando, non ti n'un classe di respeto, e se non sa, se va imponere l'aspetto, na forza, anto, bo tiinco in otro extremo, i olandesi vai balanzar, anto, bisa, non, e sa que non, mi tiinco acercan an, basare un certo, la che non bisa, un certo postura. Mi tam, mi tiinco mantenere mi postura, ma non può llegare a passare i banan, ma ne andrò. E lui, se non può bere, a pare, va un bocci, 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 è il dia 26, che non è, ben che so, despego a, para fuerti, e mi viene un maniera, mi calza olandesi, e si non, ora bo, para non, saca la calcazza, e se prende la mente, mi lobi, come, se non, mi tiinco, mi tiinco, mi tiinco, e mi tiinco, se non, ora, se non, come, se non, se non, se non, se non, il bocci, va un bocci, C'è un'altra cosa non può fare, non si può fare. Non si può fare qualcosa, non si può fare il inglese. E' un'altra cosa che è il backup, un backup naturale. Neurolinguisticamente, lo fanno in questo caso. E' un'altra cosa che succede, è una verga, è un papeamento, è un papeamento. Se uno usa papeamento, il più regolamento, non si può fare, non si può fare, ma noi busco un tolac. ora voglio negoziare con il holandese sempre ma se voglio comprare i domini hollandese usa un tolac dicono hollandese, papi e cubano in holandese ho dovuto traduzire in bocabè scuzie, traduzire tommo un pari secondi tre, quattro secondi ho dovuto lavorare ho dovuto processare ho dovuto papi e bec tommo un sete pa diec secondi ho provato, ho chiesto per perdere il secondo corso che è andata papi e cubano in idioma, ho dovuto facendo tre cose pareo scuzie, analizzare, traduzire, processare traduzire, bec, expressare questo è quello che paga se ho dovuto un tolac, ho dovuto quibere ho dovuto gana secondi il tolac, anche ho dovuto comando il holandese ho dovuto inventare il holandese il tolac, traduzire, papi il holandese è consumito in teoria, ho dovuto un fattore psicologico contro il g ho dovuto in questo corso, ho dovuto in guerra ho dovuto gana, ho dovuto tirando conopis o facendo bala, ho dovuto gana psicologicamente anche, quindi se noi mandatare l'UGCOC e ultimo 5-10 anni noi lo gana tutto il negozio quindi noi lo tiene vantaggio linguistico noi lo tiene vantaggio di tempo anche e è barriera di idioma ho dovuto gana un tolac voi siete come un holandese un holandese sconto e non c'è stato da giro quando non le interessa passi io il idioma non continuerei a voi sia la prossima la questione sta, Helman Wills ha usato un talk in Olanda, però non stiamo per pausa commerciale, e ora il nostro back non sta in contesta di il senore Helman Wills, che non sto conversando con lui e mente, dico felice mente un mensaggio di Hey Hey Day i Bobanco Amigo un fantastico adrenta denim jeans, camisa i t-shirt sportif healthy set di bachi elegante set di floss unico paabo opi camisa great i pantalon din diferente stilo surtido grandi di jockey i boxer short, koleksyon novo picante pa e campion si diem buong mes faha idashi o disenyo ng top lo ultimo ding sapato pa hindi homba impressionante dai coleksyon novo di Scandal pavo celebrazion memorable usa et toque magico di Scandal fashion technology for men Scandal salin your trendy men's store